Io sarò brevissimo perché i tempi per tutti sono quelli che sono e quindi magari uno riesce a esprimere il proprio pensiero in maniera concisa, brevemente. Ritornando però su quello che è l'oggetto di questa nostra riunione del Consiglio Nazionale che è quello dell'RSU, della prossima tornata elettorale che ci vede così presi, così impegnati. Io sinceramente voglio fare poco a filosofia e devo dire una cosa, voglio stare anche dalla parte dei lupi parafrasando l'amico che mi ha preceduto, dalla parte dei lupi nel senso buono della parola a tutela degli agnelli perché visto che qui tutti sono lupi, soprattutto i nostri grandi confederali che si sentono molto lupi e che in ogni caso voglio dire cercano con queste elezioni di affermare la loro superiorità ma io non mi sento parte di un sindacato meno peggio degli altri come si è detto, io mi sento di far parte di un sindacato attivo, propositivo, qualche d'uno ha accennato prima le piccole battaglie a livello nazionale che sono state fatte, le proposte di legge, gli OSS, l'infermiere di famiglia così importante che ci siamo venduti profondamente nei dibattiti con la gente. Non per ultimo è assolutamente anche importante l'aspetto relativo all'autonomia delle professioni dove abbiamo tutti quanti noi a livello regionale abbiamo cercato di fare approvare da qualche parte una legge regionale che poteva dar modo di iniziare un percorso diverso per tutti i professionisti del campo che sono tutti i nostri amici e che fanno parte del comparto sicuramente ha detto bene il segretario generale quando parlava di marchette non si possono fare marchette per 30 euro al giorno o per 300 euro mensili facendo magari attività in intramenia o quello che sia credo che dobbiamo avere il coraggio di affermare la nostra professionalità la professionale dei dipendenti, l'autonomia e il ruolo che abbiamo così importante e questo lo vediamo, ogni tanto mi devo collegare a qualcuno che mi ha preceduto a tutte quelle disfunzioni che ci stanno qualcuno parlava del pronto soccorso qui a Roma voglio dire abbiamo fatto degli editti su quelle che sono le problematiche al problema emergenza, urgenza 118 e pronto soccorso voglio dire, abbiamo scritto, abbiamo fatto abbiamo avuto quelle poche possibilità di intervento in Regione che non ci hanno dato grande soddisfazione ma la gente e noi dobbiamo far capire che siamo dalla parte loro che non ci devono dare solamente il voto perché siamo FSI anche perché siamo FSI soprattutto perché siamo FSI ma soprattutto perché ci devono avere come dirigenti sindacali che all'interno delle aziende si espongono, propongono fanno attività sindacale seguono il dipendente offrono i servizi che devono offrire e tutte quelle piccole cose che voi sapete meglio di me voglio dire che possono dare comunque al dipendente, all'amico, all'iscritto, all'associato a quello che potenzialmente ci potrà votare un senso pratico di quella che è la nostra realtà e di quello che è la nostra attività sindacale io credo che questo sia molto importante la mia più bella soddisfazione nell'ultimo mese è stato quello di vedere magari aperta un'azienda a dicembre un'azienda sanitaria dove non c'erano iscritti e oggi mettere una lista elettorale queste sono le piccole cose che ci fanno andare avanti e che sono vincenti dal mio punto di vista magari prenderanno 20 voti 25 voti ma dove prima non c'era nulla abbiamo creato qualche cosa se abbiamo creato qualche cosa vuol dire che ci sono stati i presupposti perché abbiamo creato qualche cosa che abbiamo seminato che forse ci siamo venduti bene che forse non siamo collusi ecco, io queste sono le cose e altre belle soddisfazioni sono quando tu riesci a motivare un dirigente sindacale facendogli capire e non in maniera clienterale o dando cose diverse da quello che può essere l'espressione e il dibattito concreto e fargli capire quanto è importante impegnarsi in questo momento per fare in modo che la nostra organizzazione possa raggiungere quelle soglie di rappresentatività che in ogni caso io credo che ci meritiamo e io sono riuscito a motivare molta gente di questo ne sono contento e so che porteranno il loro contributo in maniera fondamentale e so che riusciremo a avere qui nel Lazio qui a Roma con tutti i problemi che abbiamo con tutto un tessuto sindacale così importante di Cigelle e Cisle Will e di tutte queste situazioni abberranti ne parlava prima Trombetti ma non voglio riperderle chiaramente credo che avremo un buon successo io auguro a tutti quanti un buon lavoro a voi e me lo auguro soprattutto a me da qui alla fine delle elezioni grazie 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 grazie